Buongiorno e buon inizio settimana a tutti voi, oggi è lunedì 8 febbraio 2021 e questa è la rassegna stampa di Fano TV, occhio ai giornali che come sempre va in onda il mattino in diretta dall'ordine al sabato alle ore 7 e poi nelle consuete repliche del mattino e poi on demand chiaramente sul nostro sito occhioalanotizia.it. Andiamo a vedere il santo e poi le previsioni di oggi, oggi è San Girolamo Emiliano, il sole sorgerà alle 7.20 e tramonterà alle 17.30. Andiamo a dare uno sguardo al tempo, la protezione civile delle marche prevede per oggi cielo nuvoloso molto nuvoloso con aumento della nuvolosità lungo la fascia costiera, ci saranno anche piogge diffuse sui settori interni in locale estensione lungo la fascia costiera, il limite delle nevicate intorno ai 1000 metri, un salto su trebimeteo.com dove da martedì arriva una nuova perturbazione con clima più freddo, ancora nevicate, weekend di San Valentino con gelo siberiano. E allora andiamo a vedere la previsione per martedì 9 febbraio nelle Marche, vedete precipitazioni diffuse al mattino, in particolare nei settori interni e al nord della nostra regione con fenomeni in attenuazione poi nel corso delle ore centrali della giornata. Il tempo durerà, sarà brutto con precipitazioni anche nella giornata di mercoledì. C'è la tragedia che ha colpito ieri il mondo del volontariato, il mondo animalista con la notizia che è arrivata nel corso della giornata di un incidente mortale tra Pesaro, tra Cattolica e Pesaro in autostrada, trasportavano animali da adottare. La tragica fine di Elisabetta Barbieri e Federico Tonin, le vedete in questa tremenda immagine pubblicata sulla prima pagina del Carlino di Pesaro di oggi. e sulle pagine interne tra poco vedremo anche come è accaduto, guardate lo scenario in autostrada, terribile davvero. E poi Piazza della Vergogna, ora le multe, polemica sulla manifestazione davanti al teatro Rossini di Pesaro, l'ira del sindaco, la questura, vaglia le fotografie. E poi c'è la notizia anche sul Carlino di questa mattina che Luca Cerescioli ha preso il Covid, prima i miei genitori, poi è toccato a me, dice. Il virus a scuola, Don Gaudiano, scovati positivi in altre classi. A proposito di scuola e di positivi c'è la variante inglese che sta facendo ormai la sua comparsa nella nostra regione anche dentro le scuole. Siamo circondati i casi in Ancona, Rimini e anche Umbria. Sotto lo Sport la VL sbanca Trento e la Vis riprende il Matelica. Poi il Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico di Pesaro a centropagina la fotonotizia per lo Sport con la VL che ha vinto, che vince dunque da sogno. Ora c'è la Coppa, pesaresi vittoriosi a 30-81 a 70 e poi il pranzo è servito che fa il tutto esaurito. Nella prima domenica dopo la riapertura tanti ristoranti che si sono organizzati con i doppi turni in alcune scuole delle Marche. Invece casi di variante inglese, screening, quarantena e didattica a distanza. Il fenomeno? L'aumento da record dei depositi bancari dei marchigiani nel periodo che va da settembre 2019 a 2020. Hanno avuto un aumento record in Italia più 44%. Le notizie in breve, sempre dalla prima, mascherine abbassate, quattro sanzioni a Fano elevate dai carabinieri e poi un principio di incendio nel locale La Mandri è sempre a Fano, un ristorante evacuati tutti i clienti. Schiantino a 14 muoiono due volontari di EMPA, l'ente nazionale di protezione animale. L'ex convento fa litigare Lega e PD. A Pesero nessuna lezione da Bellucci. Lui e la sua maggioranza hanno voluto la demolizione dell'ex convento di Via Guidi. Ora nessuna destinazione lo salverà. Noi ci battiamo sin dall'origine della vicenda. Nella polemica sullo stabile da battere interviene Lega, la Lega che attacca il Partito Democratico. Dicevamo di queste due vite spezzate. Ieri mattina, già di mattina presto, erano partiti dal sud per raggiungere il nord Italia. Si erano fermati addirittura anche a Fano per regalare o vendere comunque dei cuccioli. Forse regalare, adesso non so se sono in vendita, comunque, per dare questi cuccioli in adozione. Poi sono ripartiti e purtroppo in autostrada è andata male perché c'è stato questo incidente che ha provocato due morti. Una di queste vittime è Elisabetta Barbieri, milanese di Ro, classe 57. Doveva consegnare a diverse famiglie del nord cani e gatti provenienti dalla Puglia. Una vita dedicata alle creature abbandonate. Elisabetta voleva dare loro una famiglia conosciuta in tutta Italia. Faceva il pendolo tra nord e sud per far adottare cani e gatti. Il dolore dell'EMPA, perdita gravissima. E Beatrice Terenzi, questa mattina sul Corriere, sul Carlino, racconta un po' la dinamica, quello che è successo in A14, direzione Bologna, nel tratto tra Pesaro e Cattolica. Il furgone che trasportava gli animali è stato coinvolto in uno scontro con due camion. Hanno perso la vita due volontari, abbiamo detto Elisabetta, 63 anni e poi Federico Tonindi, 47 anni. L'altro volontario, Alessandro Porta, ferito, è stato però poi dimesso. Sul posto sono accorse anche tutte le guardie zoofile dell'EMPA, dell'OIPA di Pesaro, Urbino. Nell'incidente ha perso la vita anche un cane, una femmina di pastore tedesco di 5 anni. Tutte le guardie zoofile, scrive il giornale, si sono predicate per recuperare i dispersi. Solo due filini mancano all'appello. Intanto vedete anche la fotografia sul Carlino di Federico Tonini, 47 anni, di Arconate. Siamo sempre nell'Interland milanese. Era la guida del furgone, chiamato per via di un infortunio del marito di Elisabetta, Roberto. Quindi questo è il quadro pubblicato sul Carlino nella prima pagina. Poi a pagina 2 invece altre foto del terribile schianto che appunto c'è stato in A14. L'ultimo viaggio della staffetta animalista, il furgone si schianta ad morti due volontari, terribile carambolo all'alba in A14, all'altezza di Gradara, un tirne tampona un altro e si intraversa. Dietro sopraggiunge il Ducato con il carico di cani e gatti da affidare. L'impatto è inevitabile. Deceduti due dei tre occupanti, l'autista e una donna di 64 anni. E queste appunto sono le fotografie. Il Fiat Ducato, eccolo qui, distrutto. Dopo lo schianto viaggiavano l'autista, una staffettista, ambedue deceduti e una terza che abbiamo detto è ferita lievemente. Appena il dolore del marito aveva appena battezzato un'associazione tutta sua, cercherò di realizzare il suo sogno, quel sogno. A Fano invece nei giorni sabato, tra sabato e domenica, sono circolate anche via WhatsApp. A noi sono arrivate in redazione tantissime fotografie, video, di assembramenti, assembramenti che hanno fatto tornare per un attimo alla mente la vita normale di più di un anno fa, prima del Covid, quando non si parlava nemmeno, non c'era nemmeno così l'idea dell'assembramento. Anzi, più gente frequentava il centro storico e più chiaramente erano felici i commercianti e non solo. Il centro si animava e prendeva vita. E oggi invece gli assembramenti diventano un caso, diventano motivo di rabbia anche, così almeno i video sono stati accompagnati da questi messaggi indignati di indignazione. Questi assembramenti sono stati sia nel centro storico di Fano, così come nella zona del mare. Il sindaco Massimo Serri dice non vanificate così gli sforzi, se chiederà alle forze dell'ordine verifiche più severe, quattro sanzioni per le mascherine abbassate. Qui siamo in via De Pili, sempre nel centro storico di Fano, così come in via Montevecchio. Vedete quanta gente, quanti ragazzi che sono lì tutti ammassati. Qualcuno ha la mascherina, qualcun altro no. Soprattutto i ragazzi sabato e domenica non hanno rispettato le norme anti-Covid. C'è questo appello alle responsabilità che ora il sindaco lancia a tutti i fanesi. Anche perché adesso, come vedremo tra pochissimo sul Carlino, sulla pagina nazionale, ci sono le zone rosse mirate, quelle più circoscritte. L'Umbria, la nostra vicina Umbria per esempio ne ha parecchie, così come altre regioni. Zone rosse dove chiaramente non si può fare nulla. Quindi, non so, converrà forse pensarci un po' meglio. Intanto anche a Pesero, anzi a Senigallia, è più o meno la stessa solfa. Assalto al centro, fioccano le multe in tanti nei locali o per una semplice passeggiata. Sanzionate sei persone che hanno violato il coprifuoco. Coprifuoco, che lo ricordiamo, è per tutti ancora dalle 22 alle 5 del mattino. Sconcerto, invece andiamo a Pesero, quindi Fano, Senigallia. Adesso andiamo a vedere Pesero. La protesta davanti al teatro Rossini. Sconcerto no mask in piazza. L'ira del sindaco. La questura vaglia adesso le fotografie. I primi identificati. Matteo Ricci parla di sceneggiata e invoca rigore. Quelle persone non rappresentano gli artisti della nostra città. Molti si sono già dissociati. Il loro concetto di cultura non ha nulla a che vedere con il nostro. Poi ripartire per ripartire serve responsabilità. Parla l'organizzatore di questo evento, chiamiamolo così, a Pesero, Mario Mariani, che dice non mi dissocio, sono per la libertà d'opinione. Le mascherine una copertina di Linus. Questa è l'intervista che ha realizzato il giornale. Poi Ceriscioli. Ceriscioli ha la seconda quarantena. La prima era ancora governatore. quando ha incontrato Bertolaso. Bertolaso subito dopo è risultato positivo. Quando l'ha incontrato ad Ancona per andare a Civitanova e organizzare il Covid Hospital. Quindi di conseguenza Ceriscioli quella volta, nella prima ondata, si è dovuto mettere giustamente in quarantena precauzionale. Questa volta però il virus, dice lui e racconta al giornale, l'ho preso davvero. L'ex governatore infettato dai genitori. Lo scorso aprile rischiò il contagio dopo aver incontrato Bertolaso. Se le marche oggi sono gialle, lo dobbiamo anche a lui e al Covid Hospital, dice l'ex presidente Luca Ceriscioli, che dopo aver battagliato con il virus per tutta la prima ondata, adesso è ufficialmente contagiato. Il politico che ha scelto di fare il professore ai sintomi del virus, compresa una febbre fastidiosa. Purtroppo, dice Ceriscioli, il virus è arrivato a casa dei miei genitori e ci sono incappato anche io. La febbre è piuttosto bassa e ho qualche dolore. Sono un po' preoccupato invece per i miei genitori e in particolare per mio padre che ha solo un polmone e che per questo è stato ricoverato in ospedale, ma non è in gravi condizioni. Poi parla ed elogia anche il Guido Bertolaso, parla anche del Covid Hospital di Civitanova e tra l'altro dice lui non mi meraviglio che Guido Bertolaso sia stato richiamato dalla Lombardia, la regione che è di nuovo in affanno e che ha chiesto un nuovo aiuto a lui. E poi tra i rimpianti, tra le cose che lo fanno ancora arrabbiare, Ceriscioli risponde, la cosa che mi fa arrabbiare è aver bloccato, veder bloccare un investimento da 200 milioni di euro per quanto riguarda l'ospedale Fano Pesero, che avrebbe dato una grande spinta al prodotto interno lordo, al PIL dunque regionale. Lo stop vuol dire lasciare due grandi città in emergenza sanitaria senza prospettive concrete e mezza regione senza un investimento importante. Poi c'è il bollettino che riguarda il focolaio alla Gaudiano, ci sono altre classi in isolamento, sono diventate quattro, oggi alcuni alunni con le famiglie si sottoporranno al test a Villa Fastigi. Intanto il Corriere oggi fa il solito quadro della situazione con i nuovi positivi ieri al 19%, il ritmo di Ancona viaggia quasi il doppio di Pesero, otto vittime, situazione praticamente immutata negli ospedali. E qui di spalla vedete tutto il quadro sanitario in un riquadro che dà subito il senso della situazione con 528 pazienti e persone che sono ricoverate in questo momento in terapia non intensiva, mentre in tutta la regione Marche ci sono 74 persone ricoverate in questo momento in terapia invece intensiva, per un totale ricoverati di 602 pazienti. Allora le varianti, queste varianti che stanno un po' preoccupando e che spingono verso la terza ondata purtroppo, ci sono microzone rosse come dicevamo che adesso vengono istituite per arginare in qualche modo questa diffusione. La variante, soprattutto quell'inglese, abbiamo ripetuto più volte, è quella che accelera di più, è il 70% più veloce rispetto a quella europea, diciamo. Microzone rosse per arginare le infezioni. Allerta massima in alcuni comuni dell'Umbria, della Toscana, del Molise, dell'Abruzzo e della Sicilia. Gimbe avverte, fase delicata, vanno ripresi i tracciamenti. Già, i tracciamenti significa che quando uno viene trovato positivo questa persona dovrebbe essere in grado di comunicare tutte le persone con cui ha avuto a che fare nelle ultime ore e soprattutto nel momento in cui questo elenco viene comunicato all'azienda sanitaria locale del posto, questi addetti dell'azienda sanitaria possano in qualche modo rintracciarli e quindi avvisarli che sono entrati in contatto con una, questo è il tracciamento, con una persona positiva e fare in modo dunque di tenerli in quarantena precauzionale. Questo è il motivo anche per cui al ristorante ti prendono il nome e cognome, il numero di telefono, così come dal barbiere, dal parrucchiere e quant'altro. Se poi si prende il numero di telefono e non succede nient'altro è chiaro che va tutto all'aria e il tracciamento, che invece è molto importante, non si può fare. Mancano le persone perché evidentemente sono troppi quelli che andrebbero controllati e tracciati. Allora se scoppieranno nuovi focolai i reparti torneranno a riempirsi molto più velocemente, questo è il rischio, questa è la preoccupazione più grossa. Allora non so se ricordare che cosa significa andare in zona rossa può servire in qualche modo come deterrente. Ci proviamo? Proviamoci. Zona rossa, negozi, sono aperti soltanto gli alimentari, i negozi di ottica, informatica, telefonia, profumeria, biancheria personale, giocatte, librerie e fiorai. I bar e i ristoranti resteranno solo aperti per l'asporto, dalle 18 è vietato l'alcol, i parrucchieri aperti, sì, questi sono aperti, una volta al giorno la visita agli amici, una volta al giorno visita ai parenti, in auto soltanto due persone e minori di 14 anni, insomma, chiuse palestre e piscine ma questo lo sono anche adesso, tra l'altro c'è un invito dei gestori di palestre e piscine che sono ormai allo stremo delle forze perché non guadagnando nulla ormai da molti mesi è davvero un problema. La variante inglese a terra a scuola, scrive il Corriere Adriatico, sono stati chiusi nelle Marche tre istituti, uno a Tollentino, poi a Pollenza e a Castelfidardo dove sono stati scoperti sei casi di Covid mutato, attivata la distanza, la didattica a distanza, oggi e domani tamponi molecolari a tutti gli alunni. Poi in sette minuti si vaccina una persona, la strategia di Bertolaso per accelerare i tempi, prove generali alla Fiera di Milano con le operazioni cronometrate, l'obiettivo proteggere 6 milioni e 600 mila cittadini entro giugno. La Lombardia punta a mantenere un flusso costante di pazienti, bisogna evitare che si formino code o rallentamenti. Intanto l'allarme si eri meno efficaci sulle varianti, vedete questa è un'altra notizia che ogni tanto fa la sua comparsa, qualcuno tenta di buttare acqua sul fuoco, soprattutto gli esperti dicono no ma guarda la copertura c'è anche se le varianti inglese, africana e brasiliana, pare che insomma i sieri quindi vaccini riescano senza problemi a coprire eccetera eccetera, oggi c'è il titolo che invece va in tutt'altra direzione. Allarme, sieri meno efficaci sulle varianti. L'Istituto Superiore di Sanità dice ceppi brasiliani e sudafriciani sono più resistenti e il Covid lungo provoca la fatica cronica. Ci sono molte persone che hanno avuto il Covid anche magari che non sono finite in ospedale, che hanno comunque passato la loro quarantena e quant'altro però ancora hanno affaticamento, ancora non hanno recuperato per esempio l'olfatto, ecco gli strascichi comunque questo Covid li lascia indipendentemente da tutto. Sul vaccino invece AstraZeneca a chi ha meno di 55 anni e c'è ancora questo caos delle liste. I virologi dicono iniezioni a tutti per anno di nascita, domani arrivano le prime dosi di Oxford, precedenza a professori e polizia, ma si fa strada l'idea delle annate. Il Lazio pronto a convocare la classe 1966. Dunque tutti quelli che sono nati nel 1966 possono andarsi a vaccinare, questo chiaramente nella regione Lazio e se verrà accettata questa strategia. Poi l'epidemiologo e Assessore Lopalco dice i primi da proteggere dovrebbero essere gli operatori scolastici appunto e le forze dell'ordine. Torniamo a Fano perché il resto del Carlino pubblica questa fotografia e la notizia di alcuni lavori pubblici che effettivamente erano necessari soprattutto sul lungomare Sassonia e che adesso appunto si rifà bello in attesa del grande progetto che risistemerà tutta la passeggiata del lungomare e quant'altro. Intanto ci sono questi giochi sul lungomare Sassonia che per la stagione estiva che ormai sta arrivando lentamente alle porte, insomma questi giochi verranno sistemati. Così come la famosa Rosa dei Venti che tante volte puntualmente ci segnalate e che effettivamente sta lì in brutta mostra. Però adesso insomma speriamo che venga in qualche modo, anche perché me lo ricordo dall'inizio, quando è stato posizionato, era davvero bello, originale e funzionale anche. Non capisco perché non sia mai stato ripristinato, non è neanche un'opera milionaria o che costa chissà quanto per risistemarlo, però non c'è stata mai la volontà. Forse non piace ai politici questa Rosa dei Venti che invece è interessante, bella da vedere. Poi ladri che cercano di entrare in una chiesa a terre roveresche, gli è andata male questa volta. I ladri l'hanno presa sì nel mirino, fortunatamente sono stati respinti dal sistema di allarme, hanno forzato la porta della sacrestia, però sono fuggiti subito. È successo nel tardo pomeriggio di sabato a piagge nella restaurata chiesa parrocchiale di Santa Lucia in via Roma nel pieno centro del paese. Tutto è successo intorno alle 18.30. Poi prende fuoco la canna fumaria, evacuati i clienti del ristorante, una notizia che troverete sul Corriere Adriatico, sempre la pagina di Fano, un principio di incendio nel locale Lamandria, spento dai dipendenti con gli estintori in dotazione. I pompieri stabiliscono la temporanea inagibilità della cucina, ci sono stati danni al motore di areazione. Poi a Mondolfo invece sempre un altro incendio, fiamme nel cammino di un'abitazione, è successo in via della valle del Pozzo appunto a Mondolfo. Anche qui sul Corriere ladri in canonica messi in fuga dall'allarme, forzato l'ingresso dopo la 19 di sabato quando il parroco diceva messa però in un'altra chiesa. Coppia di anziani, si sente male, preoccupazione per il monossido, un apparecchio non rileva il gas, rifiutato il rapporto, il trasporto del 118, è una coppia residente in via Galileo Galilei nel quartiere di Sant'Orso, alla fine tutto è andato per il meglio, i due si trovavano all'interno della loro abitazione, si sono però sentiti mancare, hanno un principio di svenimento, anche se non hanno mai perso tutta la loro lucidità. Hanno chiamato il 118 però poi alla fine hanno preferito restare a casa. Allora andiamo a vedere le altre pagine della nostra segna stampa, dei nostri giornali. Allora, portale e libro su sette figure storiche. Ucchielli gioca la carta del turismo, il sindaco, la cultura deve essere parte del nostro sistema produttivo. Nella Val Cesano, da Pergola, anche scuole Unioni Montane, nel distretto Terre Marchigiane, nominato il Consiglio e approvato lo Statuto, si attende adesso la legge nazionale, mentre a Urbino due discariche chiuse anzitempo, a Guzzi adesso deve fare chiarezza, cittadinanza attiva interpella l'assessore regionale contestando le decisioni dell'ATA. A Senigallia stoppa il progetto della banchina, troppi rischi e spreco di denaro, il club nautico contesta il prolungamento a Levante, meglio investire sui ponti di Statale e Ospedale. Mentre la sanità in lutto a Senigallia per la morte del primario Fabio Ippoliti aveva diretto fino al 2017 il reparto di nefrologia. La Camera Ardente sarà allestita dalle 12 di oggi nella casa funeraria in via dell'Artigianato a Senigallia. Coprifuoco violato, sei multe da parte dei carabinieri, foglio di via ad un senegalese, furto a Montemarciano, rubato Monili in una casa. Siamo allo sport con il Fano che ha quasi battuto un record che non veniva battuto da 90 anni, cioè quello di vincere contro la Samba, la Samba dell'Ettese, insomma l'Escano rimette in piedi la Samba, il Fano in dieci sfiora l'impresa, finale caldissimo alla Riviera, prima il sorpasso del Granata, poi il rigore del 2 a 2 all'ultimo secondo. Dovevamo chiuderla prima, in prota direttore dell'area tecnica della Samba dice ci siamo fatti sorprendere su quei due gol. Sotto l'alma ha sfiorato un'impresa che mancava da 90 anni, l'ultima vittoria del Fano a San Benedetto risale al 1931 addirittura. Fattò fidane il presidente orgoglioso della squadra, destro l'allenatore misurato dice bravi a rimanere compatti. Mentre la Vis Pesero pareggia 1 a 1 a Matelica, Matelica Vis pari con polemiche, i locali in vantaggio grazie ad una splendida punizione di Volpicelli vengono raggiunti nel finale, poi per i pesaresi segna Gucci, il guardialine resta con la bandierina alzata ma l'arbitro convalida. Lo sport continua con la VL, che vince la Carpegna Prosciutto 81 a 70 contro la Dolomiti Energia, un successo netto e meritato, Dolomiti sempre indietro a inseguire troppo forti i pesaresi. Mentre c'è anche il volley con la Lube che ora punta la Champions, Anziani, re dei muri, nell'ultimo decennio il club non è mai sceso sotto il podio, attesa per la sfida di domani contro Tolles, il girone sarà ancora senza i tour, che poi c'è la Mad Store di Macerata che in serie A3 continua il suo percorso dopo aver iniziato il suo campionato con grandi difficoltà perché tutta la squadra era stata colpita dal Covid, adesso invece ha ripreso a marciare cinque vittorie di fila, uno dietro l'altro, l'ultima ieri a Macerata contro Brugherio per 3 a 0, la cronaca di Lorenzo Monachesi sul resto del Carlino di oggi. Grazie dunque per aver seguito la nostra rassegna stampa, vi ricordo questa sera l'appuntamento con il telegiornale, occhio alla notizia e poi subito dopo, sempre in diretta, primo cittadino con l'ospite di questa sera che è il primo cittadino di Colli al Metauro. Grazie e buona giornata a tutti.